Top Gun America, René Legati, Ziggolo Debuti, Lorenzo Baudi, Shiva Ferm, Lucio Becchetti, Uno del Duomo, Andrea Farolfi, Von Waias AS, Alex Gocciadoro. Mezzo meccanico in movimento. Sette cavalli agli ordini dello starter per questa prima batteria della Coppa Partenope, trofeo mago d'amore. Un po' arretrato vagabondo che gradatamente cerca di prendere le ali. Arretrato il 6 di Uno del Duomo e anche Von Waias AS. Via la macchina in velocità. Allacciate le cinture, un po' di turbolenza, Shiva Ferm, impegna e supera Ziggolo Debuti e va al comando. E così il buon Rugantino con il suo allievo va a completare i 200 iniziali nell'ordine del 13 e mezzo. Lunga fila indiana, si fa per dire sono insetti, ma la fila indiana c'è o quasi. Si completa la piegata e si completa anche il quarto iniziale da parte di Shiva Ferm, che lo può passare nell'ordine del 29 e 6 e davanti alle tribune per linee esterne è soltanto Uno del Duomo, che poi viene presa dalla scia, nella sua scia da Von Waias AS. Si completano i 600 iniziali, 600 in 45 e un battito, si viaggia da 1.15.2, Shiva Ferm, Zigolo, Vagabondo. Si completa il mezzo miglio iniziale, mezzo miglio in un minuto e qualche virgola, frazione in 15.2. I cavalli che affrontano il penultimo rettilineo, per il momento i cavalli a largo non riescono a risalire, Shiva Ferm riparte, completa il chilometro in 14.7, 14.4 di frazione, si affaccia Vagabondo, ma viene controllato da Zigolo, i cavalli affrontano la curva finale, Zigolo è cattivo, va su Shiva Ferm, 400 alla meta, ma ha problemi e galoppa Zigolo e si elimina, scappa via Rugantino, scappa via Rugantino, retta d'arrivo con Shiva Ferm al comando, buon margine di vantaggio su Vagabondo, poi un ottimo uno del Duomo, allarga Von Waias AS, vive sul vantaggio Shiva Ferm, cavalli in zona traguardo, non c'è più tempo, Shiva Ferm! Signori, veramente 1.56.9, cost to cost del Rugantino, raffinato sotto tutti i punti di vista, e indirittura se ne va, se ne va, se ne va, e batte i più titolati avversari, Shiva Ferm, totalizzatore, che chiacchiericcia, 5.80. E ora in premiazione per la Coppa al proprietario, offerta dalla signora Isabella Ceriani, che è la proprietaria di Mago d'Amore, Shiva Shiva, Shiva Shiva, Shiva Ferm, dal Rugantino, signori, con una promenade veramente eccellente. Linear ai migliacci! Grazie a tutti!